Pronto per la festa della Natività di Maria Santissima, la festa della Madonna di Ognina in programma dal 5 al 15 di settembre 2024 è la seconda festa religiosa più partecipata nella città di Catania. Presentato ieri il programma completo. Anche quest'anno saranno tanti gli eventi collaterali che faranno da cornice all'evento religioso come la novità di quest'anno, Ognina e il cinema, salotto culturale con Tuccio Musumeci e Alfredo Lopiero e tutto il cast del film Un viaggio per incontrare Mimì, regia di Alfredo Lopiero, in programma martedì 10 settembre alle ore 21. Il fatto che abbia fortemente voluto che passasse una proiezione anche da Ognina perché è doveroso, è doveroso il fatto che Ognina mi ha aperto le porte, ha aperto le porte a me e ha aperto le porte anche al grande Giancarlo Giannini, a Tuccio Musumeci e soprattutto allora 54 anni fa li aprì la nostra linea Wirtmüller. Quindi poter ripassare da qui significa riconoscere al paese quell'ennesima disponibilità nei confronti del cinema. E l'evento di giorno 10 Ognina nel cinema sarà proprio una grande festa dove si parlerà del cinema nel territorio catanese, ad Ognina e parleremo tantissimo di quello che fu il grande Mimì metallurgico con la grande linea Wirtmüller e poi parleremo e vedremo insieme un viaggio per incontrare Mimì che torna dopo 52 anni in questi luoghi bellissimi. Vogliamo fare attenzione di più alle famiglie e ai giovani che si ritrovano oggi per tanti motivi a non avere più quella gioia dello stare insieme, quella gioia del coinvolgimento, il vino nuovo, il vino buono del fare festa. Ecco allora che sì è tutto pronto ma come anche il presidente l'ingegnere Testa dice è pronto ma ci sono i preparativi degli ultimi momenti che ci caricano ancora di più perché 10 giorni di festa ovviamente sono quelli che con la collaborazione di tutti, di tutta la comunità e devo dire anche la risposta positiva di tutte le comunità parrocchiali del nostro quinto vigoriato quest'anno che invitate a partecipare come momento di pellegrinaggio di queste realtà stesse ecclesiali hanno tutto risposto sì per cui dal primo giorno fino all'ultimo della domenica 15 ogni giorno ci sarà una comunità parrocchiale con il proprio parroco che sarà presente. Abbiamo anche quest'anno organizzato nei 10 giorni di festa parecchi eventi a partire dalla tradizionale Sagra del Pesce che come ogni anno si darà giorno 6, 7 e 8 settembre con una serie di concetti di accompagnamenti musicali. altrimenti importante la manifestazione Ognina sotto le stelle dove con Tuccio Musumeci ed Alfredo Lopiero ci sarà proprio un salotto culturale si parlerà di Ognina il cinema rievocando anche questa vocazione che questo bellissimo scenario ha avuto nel tempo ma che tuttora era come set cinematografico proprio legato alla sua storia e alle sue tradizioni.